Ah, tu devi essere a cabane! Mi avevano detto che la tua sospensione sarebbe finita oggi, tuttavia ciò non giustifica il tuo ritardo a lezione! Piacere mio, sarà divertente occuparmi del tuo rendimento scolastico! Ah, tu devi essere a cabane! Mi avevano detto che la tua sospensione sarebbe finita oggi, tuttavia ciò non giustifica il tuo ritardo a lezione! Piacere mio, sarà divertente occuparmi del tuo rendimento scolastico! A presto!